Bentornati a tutti quanti in questo appuntamento periodico su F1 in generale dove tutte le gare di ogni weekend di gara andiamo a analizzare quello che succede in pista. Siamo giunti alla fine della giornata del sabato e quindi si sono appena concluse le qualifiche della gara di domenica e stamani è stata corsa la Sprint Race, la seconda di quest'anno. Vi invito comunque a seguire il canale di F1 in generale e anche tutti gli altri social e il sito web per rimanere sempre aggiornatissimi sulla Formula 1. Sprint Race che si apre subito con un contatto e quindi con una conseguente safety car dovuta a un incidente tra quattro vetture, due Aston Martin, Hamilton ed un incolpevole Norris. Nella prima come sempre coincitata curva di ogni Gran Premio sono tutti quanti a cercare uno spiraglio per passare davanti alla vettura che gli precede. Così ha fatto Hamilton che ha trovato la porta aperta e anche uno Stroll che ha provato comunque a chiudere il compagno di squadra Alonso senza magari rendersi conto che sarebbe stato così vicino. Quindi Stroll chiude suo Alonso, si toccano e toccano anche Hamilton che per fortuna esce illeso da questi contatti. Chi ne soffre di più praticamente è stato Norris che è stato preso a sua volta da Stroll e ha dovuto per forza ritirarsi dalla gara. Quindi questi sono tantissimi dati in meno che riceverà McLaren per lo sviluppo della macchina visto che in questo weekend hanno portato una marea di aggiornamenti. Allo start abbiamo visto anche un piccolo errore di Perez che arriva largo in curva 1 e si fa infilare da Ricciardo, cosa che comunque non andrà a compromettere la sua gara perché da lì a poco l'ha ripassato senza alcun tipo di problemi. Tornando a Ricciardo, grandissima, grandissima gara e prestazione. Riesce a tenersi dietro per tutta la gara un Carlos Sainz che non sembrava riuscire mai ad avvicinarsi anche con il DRS a tal punto da poter tentare un sorpasso. E questa è stata sia la fortuna di Ricciardo ma anche la bravura perché ha fatto veramente delle ottime chiusure che non hanno permesso allo spagnolo di portarsi avanti. Indietro abbiamo visto delle bellissime battaglie tra Hamilton e Magnus, entrabotte, sportellate, tagli di pista, più o meno regolari, bisogna un po' vedere. A me alle volte mi è sembrato di ricordarmi quando giocavo a Gran Turismo 4 alla PlayStation 2, quindi queste scorrettezze gli sono costate ben 35 secondi di penalità che lo hanno portato praticamente ad arrivare ultimo. Giusto così direi, perché sì, bellissimo lo spettacolo, bellissime le battaglie, ma alle volte mi è sembrato un pochino esagerato, soprattutto per quanto riguarda i tagli di pista. Penalizzato è stato anche Hamilton che si è preso 20 secondi di penalità per la velocità eccessiva che ha tenuto in pit lane e quindi troviamo anche lui in sedicesima posizione. Dietro ha approfittato e ha fatto anche una bellissima sprint race Sargent che si è trovato in decima posizione. Si porta dietro Ju, Russell, Albon, Bottas e Ocon. Peccato per Sargent perché se fosse stata una gara normale avrebbe preso un punto. Peccato anche per Gasly che è arrivato nono, ma nella sprint race prendono i punti solamente i primi otto e quindi nessuno di questi ha preso punti. Sunoda che ha fatto una bellissima rimonta, prende un punto e si trova in ottava posizione. Hülkenberg che si trova in settima posizione anche aiutato un po' da Magnussen nel tentativo di provare a tenersi dietro Hamilton e quindi si porta comunque a casa due punti che all'ass non fanno assolutamente male. Arrivando nelle prime cinque posizioni bisogna assolutamente fare un applauso a due persone in questa gara. La prima è stata sicuramente Leclerc che ha tenuto un passo gara spettacolare, mai così vicino a Verstappen, nonostante comunque sia stata una gara parecchio corta. Il secondo pilota al quale dobbiamo fare complimenti è Daniel Ricciardo che ha fatto una difesa magistrale su una macchina ben più performante della sua. L'altro lato della medaglia è ovviamente un Sainz che non è riuscito ad arrivare il sorpasso. Nonostante la miria di dimetri che ci sono per l'utilizzo del DRS non è mai riuscito a mettere le ruote davanti a una V-Carb. Comunque Ricciardo ottime manovre però è una macchina che di passo è molto molto più lenta rispetto alla Ferrari, il che è molto strano vedere che non siano riusciti a sorpassarlo. In questo grafico vediamo quelli che sono stati i passi gara di tutti quanti i piloti e salta subito all'occhio come il primo trio di macchine abbia avuto un passo molto più veloce rispetto agli altri, dopo andiamo a vedere anche il perché. Ma da fare un applauso a Ferrari che è riuscita a mantenere una seconda posizione nonostante ha una macchina praticamente da inizio campionato, ovvero senza aggiornamenti. Leclerc è stato veramente ottimo, sappiamo d'altronde come si trova lui bene con questo tipo di piste. Sainz è molto più indietro con il passo gara rispetto ai primi tre, semplicemente perché è stato sempre dietro al Ricciardo che avendo una macchina molto più lenta non è mai riuscito a far performare bene la sua Ferrari e quindi si è trovato un pochino incastrato dietro Ricciardo, senza possibilità di far vedere veramente il passo della rossa. Considerate che di passo gara di differenza tra Leclerc e Sainz ci sono stati sei decimi e mezzo, che è veramente un'eternità. In questa sprint race tra Verstappen e Perez c'è stata una differenza di passo gara di due decimi, una cosa abbastanza normale che ci può essere tra due compagni di squadra. Vediamo poi come Hulkenberg è sempre stato tranquillo da solo, perché dietro per via di Magnussen Hamilton non è riuscito a prenderlo e di conseguenza lui non aveva il passo per raggiungere quelli davanti. E poi si è creato un trenino lunghissimo da Magnussen fino all'ultima posizione. È stato proprio decisamente il tappo in questo caso. Mi dispiace molto vedere come Russell è stato il quarto più lento, anche perché aveva una delle velocità di punta più basse di tutto quanto il pacchetto delle 20 macchine e questo non gli ha permesso di poter sorpassare le vetture davanti a lui più lente. Problema che ha riscontrato anche Hamilton e sicuramente i ragazzi della Mercedes devono studiare e capire bene il perché. Avevano una macchina molto più carica, ma non è assolutamente una cosa a cui siamo abituati da parte di Mercedes, quindi spero che nella gara di domenica riescano sicuramente a migliorare questa questione. Per quanto riguarda la qualifica per la gara della domenica abbiamo visto dei risultati totalmente diversi rispetto alla qualifica sprint. Anche delle cose un po' particolari tipo vedere Mercedes e McLaren che tentano il giro in Q3 con la gomma gialla. I protagonisti sono stati anche gli impeding perché abbiamo visto diversi piloti che si sono trovati in difficoltà con i sorpassi delle macchine più lente durante il loro giro veloce. Dal Q1 sono stati eliminati Joe, Magnussen, Ricciardo, Sargent e Bottas. Ricciardo che ha fatto una qualifica totalmente diversa rispetto a quella che abbiamo visto ieri, molto probabilmente perché ieri sono riusciti a metterlo fuori nel momento giusto, visto che comunque c'è stata una grandissima evoluzione della pista. Purtroppo dovrà ricostruire tutto quanto da capo nella gara di domani. Dal Q2 invece sono stati buttati fuori sorprendentemente Alonso, Albon, Ocon, Gasly e Stroll. Aston Martin che si è trovata un bel po' in difficoltà in questo caso, visto che Hulkenberg, in un'ottima forma, un fenomenale Hulkenberg e un altrettanto buono Tsunoda hanno messo fuori le due monoposto inglesi. Cosa che personalmente non mi sarei mai aspettato, almeno da Alonso, visto come è andato in tutta quanta la stagione, almeno un passettino in più per entrare in Q3 me lo sarei aspettato. Probabilmente non si è mai trovato a suo agio in questa pista americana. Quindi andando poi dal basso verso l'alto, in Q1 si sono posizionati Tsunoda, Hulkenberg, Hamilton e Russell che hanno fatto molto meglio rispetto a ieri, Piastri e Norris che anche loro mi sarei aspettato sicuramente di più, ma sono un attimo in crisi, McLaren è un attimo in crisi col capire come funziona la macchina con gli aggiornamenti, dato che loro pensavano di poter fare un primo push della Q3 più veloce con la gomma gialla. Hanno da mettere a posto tante cose, visto che hanno avuto anche pochi dati da sfruttare durante il fine settimana e visto purtroppo la sola e unica prova libera. I primi quattro sono Perez, Sainz, Leclerc e Verstappen. Ferrari che ha fatto un ottimo lavoro, ha fatto quello che praticamente deve fare, riuscire a mettersi dietro Perez e provare a stare attaccati a Verstappen. Non sono riusciti per un soffio perché nell'ultimo push del Q3, Leclerc ha avuto tanti tanti problemi con la gomma, sicuramente anche a questo giro non è riuscito a entrare in temperatura, ad avere una buona preparazione del giro e di conseguenza ha fatto l'ultimo giro scivolando ovunque. La macchina non stava ferma, scivolava letteralmente da tutte le parti. Vedremo poi cosa ci aspetta nella gara di domenica alle 22, visto che comunque il degrado della gomma non c'è stato così tanto in maniera ampia come ci saremo aspettati all'inizio del weekend. Diversamente abbiamo visto un po' più di sollicitazione di degrado per le coperture posteriori, visto che comunque ci sono tante curve che hanno bisogno di tanta trazione per uscire. Sicuramente ci sono state delle variazioni di assetto, abbiamo visto comunque come Mercedes è riuscita a tenere un passo un po' più migliore rispetto a quello che abbiamo visto ieri. Vediamo se in gara può fare la differenza e soprattutto se possono fare quel passettino in più che gli serve per stare dietro a Ferrari. Non ci resta che aspettare le 22, non ci resta che aspettare le 22 di domenica sera, non ci resta che aspettare le 22 di domenica sera con ansia per vedere una spero bellissima gara. Da quello che abbiamo visto nella sprint race probabilmente ci aspetterà una gara bella movimentata. Noi ovviamente ci risentiamo dopo la gara, vi ringrazio di aver guardato questo video, vi ricordo di iscrivervi a tutti quanti, i profili social di F1 in generale per rimanere sempre aggiornati. Buona giornata a tutti quanti!